Buongiorno a tutte ragazze, oggi è un orario anomalo un po' più prima, un po' più prima, non si può sentire però prima alle 12, perché? Perché? Perché sì, perché oggi è capitato così, scusate, ho avuto una notte turbolenta, ho dormito poco e male Allora, oggi facciamo questa diretta con il dottor Scarano, ciao Eli, come stai? Ciao Mary, ciao Romina Allora, il dottor Scarano, lo conoscete, non lo conoscete, lui è un urologo molto bravo e famoso per una terapia antibiotica Ora, appena si connette, ci spiega qualcosina Ciao Iole, ciao Martina L'ho sentito tre secondi fa, era, si stava qui Ora sì, ciao Calusia Allora, ciao De El Ma lui non risulta connesso Va bene, siamo fiduciosi Siamo fiduciosi Non c'è, appena lo vedete ditemelo perché ogni tanto c'è un ritardo Ciao Sonia, ecco il dottor Scarano, eccolo qui Eccolo qui Ciao Fertility, ciao, come stai, eh? Che abbiamo sentito quelle belle notizie Ciao Eccolo Ciao Auguri Grazie anche a te, Lerdana Com'è passato le feste? Abbastanza bene, chiuso in casa, abbastanza bene Dopo una settimana abbastanza impegnativa prima del Natale Per via del Covid Però dai, le cose sono andate bene per il momento Ho passato un tranquillo Natale con mia moglie e con i miei ragazzi E così, poi ho cercato di leggere qualcosa Senti, puoi alzare un po' la telecamera, se no non ti vediamo bene gli occhi Ah, allora scusatemi, infatti io non capisco Ecco, già a me Allora, aspetta un attimo Devo, così? Così Aspetta che c'ho anche il carico di batteria Va bene così? Perfetto? Sì, va bene Ok, va benissimo Ci siamo Allora, qual è stato il regalo più brutto che hai ricevuto? Non ho ricevuto grandi regali, come tu pensai Il tuo bel regalo te l'ho inviato ieri a te Quindi, con l'immagine di cui è il regalo di Natale Gli altri regali brutti non ne ho avuti Le solite calze, la solita cravatta, la solita sciarpa Però dai, sono tutti belli I regali sono belli perché sono fatti col cuore Quando sono fatti col cuore Un attimo sopra Va meglio? C'è poca luce Aspetta un attimo Scusa un secondo Adesso mi sa che c'è più luce, giusto? Adesso sei più bello No, dai, sono più bello Ormai i miei 60 anni si cominciano a vedere, dai Io che ti racconto Ho uscito il libro finalmente dopo questi due anni di partito Ho visto, ho visto Sei stata brava, sei stata Quindi hai tenuto Bello, bello, bello È vero che ci sono alcune storie che riguardano il mio intervento? No, ci sono tre ragazze che ti hanno conosciuto prima di risolvere Ma nelle storie non parlano di te Insomma, mi hanno raccontato loro Che ti avevano conosciuto E che gli avevi risolto il problema Il problema Bene, sono contento Quindi in maniera diretta ci sono anch'io Quindi i regali brutti? I regali brutti, dai, sono tutti belli Non li hai ricevuti perché tutti col cuore No, 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 no No, sono tutti belli E poi il regalo più bello è quello che ti ho mandato ieri Quella bellissima foto di un bambino nato il giorno di Natale Dopo tre anni di ricerca E dopo dieci minuti che ha parlato con me Abbiamo cercato di capire qual è il loro problema E da quel problema è nato Infatti lei mi racconta sempre Dottore, le sono bastate dieci minuti per capire qual era il mio problema Io mi sono rivolto a lei E lei ha già risolto È così che funziona Cioè non è che ci vuole molto Per risolvere Se il problema è un problema di coppia Va risolto nell'ambito della coppia Infatti questa è la cosa più bella Che ho imparato in questi 11-12 anni di esperienza Sull'infertilità Il problema non è mai del singolo Non è mai dell'uomo Non è mai della donna È sempre un problema di coppia Quindi se i nostri centri Di procreazione medicalmente assistita Se tutti i miei colleghi Riuscissero a considerare la coppia come un'entità unica Io credo che molti, ma molti problemi di infertilità Potrebbero essere tranquillamente risolti Ancora prima di arrivare alla procreazione medicalmente assistita Perché basta capire un attimo quali sono le problematiche Non sempre solo infettive Anche di altro genere Quindi anche un semplice varicocele Che non viene neanche preso in considerazione Nei centri di procreazione medicalmente assistita Ma anche problematiche più banali Per questo è importante sempre prendere la coppia E analizzarla Analizzarla in ogni punto In ogni suo problema Non soltanto far finta di guardare la donna Alla donna si fanno fare 10.000 esami All'uomo, scusate, viene anche una toccatina di testicoli Insomma, questo non va bene Non va bene Cioè sono uomini che non hanno mai visto un andrologo Uomini che non hanno mai capito se hanno o non hanno un problema E quindi non si sentono mai all'altezza Anzi, quando vedono che il loro esame seminale È un esame seminale pessimo Si sentono veramente denigrati Si sentono in difficoltà con la propria compagna Dicono, tesoro mi dispiace, non so cosa fare Ma nessuno che consiglia a questi uomini Di andare da un andrologo E capire qual è il problema Perché se qualcuno riuscisse a capire veramente il problema di quell'uomo Probabilmente si risolverebbe anche il problema di coppia E questo che L'ho imparato sicuramente anche dalle coppie stesse Perché giorno per giorno Parlando sempre con una Non con una Sempre con voi donne Perché forse voi donne Siete quelle che conducete Il discorso dell'infertilità O della fertilità Chiamiamola così E quindi parlando con queste donne Si riescono a capire tante cose Quindi l'invito che io faccio A tutte le coppie E quello è sempre di guardare Il problema a 360 gradi Sia per l'uomo che per la donna E soprattutto ai miei colleghi Di non sottovalutare l'aspetto femminile Parlo degli andrologi E ai miei colleghi ginecologi Di non sottovalutare l'aspetto maschile Parlando di ginecologi Quindi E questo è importante Estremamente importante Se si raggiungerà questo obiettivo Io credo che Potranno venire fuori Tante belle cose Tante 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 E questo sarebbe il regalo più bello di Natale Che potrei ricevere Certo Senti Durante questo periodo con il covid La tua cura Come interagisce? Beh Nel periodo critico Marzo e aprile Io sono stato fermo Completamente fermo Perché In quel momento Non avevamo Alcuna conoscenza Del covid stesso Quindi Abbassare le difese immunitarie Non serve stato Deleterio Insomma In questo momento Vediamo che Effettivamente Anche in questo momento Cioè Critico Io consiglio sempre Molta attenzione Se vogliono iniziare La mia terapia E Soprattutto Evitare Contatti All'esterno Quindi Diciamo Che possono Essere rischiosi Per Contrare il covid Quindi D'altra parte Fare una Bombardata Di antibiotici Come quella Che della cura Che porta il mio nome Secondo me Non è facile Non è facile Affrontare Questo tipo di argomento E non è facile Affrontare Anche Il covid stesso Quindi io Dico sempre Molta attenzione Se volete farla Se Lavorate a casa O Home Working O Smart working Quello che sia Allora State molto attenti Insomma Quindi con i rapporti Io sto Soltando una serie Di ragazze Entusiaste Che ti salutano Ti mandano cuori Ti ringraziano Grazie Grazie E qui abbiamo Non smetterò mai Di ringraziarla Datati Meddi Io sono l'esempio Della sua cura Un bimbo ha avuto Dopo tanti Tentativi PMA E uno in arrivo Grazie a lei Naturalmente Salve Superdottore Volevo sapere Come ci dobbiamo Comportare Con il vaccino Covid Ce lo sconsiglia Durante la gravidanza? Guarda Non ci sono ancora Informazioni a tal riguardo Qualcuno dice Che possa Anche creare problemi Sulla Spermatogenesi Queste cose Non ci sono ancora Studi a riguardo Per cui L'unica cosa Che posso dire Come medico Se Ve la sentite Fate Quindi Non posso dire altro Io sarò costretto A farlo Perché In ambito ospedaliero Ogni giorno Abbiamo incontri Ravvicinati Con pazienti Covid Quindi Non è facile Non è facile Affrontare questo argomento Con persone In difficoltà E quindi Bisogna Prepararsi Ad ogni venenza Per le coppie Se sono giovani Possono anche Non so Sono loro Che devono scegliere Io E per quello Che riguarda Il vaccino Covid In gravidanza Quello Sta Ai ginecologi Consigliarlo A me Non sarò io Che posso farlo Allora Ascolta C'è una domanda Da una ragazza Che non credo Di conoscere Calusia Dice A febbraio Infezione da coli Con leucociti 0,1 Poi Spermiocultura Sempre negativa Ma leucociti 0,4 E 0,8 Ma i leucociti Non sempre Sono indicatori Di una infezione Importante Quindi Il problema è I leucociti Vanno visti Nell'ambito Di un quadro Ben più ampio Cioè Se le leucociti Sono presenti O tendono a aumentare E contestualmente C'è un aumento C'è una riduzione Del numero di semi Della qualità stessa Del seme E quant'altro Allora va Va presa in considerazione Anche l'ipotesi Di una possibile Infezione silenta Cioè Il fatto che La spermiocultura Sia negativa Non vuol dire Assolutamente nulla In quel momento La prima cosa che farei È Andiamo a fare Un tampone cervicale Alla compagna E Andiamo a conoscere Le problematiche Della compagna La compagna La donna Con cui vive Quest'uomo Quali problemi ha Per quale motivo Ancora non è riuscito Ad avere una gravidanza Nonostante Dico così 200 milioni di semi Ci deve essere una ragione Allora Si cerca di analizzare Punto per punto Quindi se questa donna Ha problemi genitali Ogni volta Che questi due ragazzi Hanno un rapporto Ha problemi di perdite O cissiti ricorrenti O vaginiti ricorrenti Qualcosa ci deve essere Quindi andiamo A analizzare bene Quella donna Io vedo Tantissime donne Che affrontano La PMA Senza aver mai Fatto un tampone Cervicale Follia Follia Ma non soltanto Stiamo parlando Di PMA Omologa Stiamo parlando Anche di PMA O eterologa Anche con la PMA Eterologa Moltissime donne Affrontano Questo percorso Pensando Che con L'embrione Quindi la blastocisti O l'obocita Di una ragazza giovane Possono bypassare Qualsiasi ostacolo Non è vero Io ho donne Che hanno fatto 3, 4, 5 Evo donazioni E non hanno mai Ottenuto nessun risultato Perché? Perché nessuno Ha mai fatto fare A quella povra donna Un tampone cervicale Che mostrava Chiaramente La presenza Di un'infezione Quindi Mai Attenzione Quindi non lasciatevi Quando Quando c'è qualcosa Che non va A livello seminale E quando soprattutto Voi donne Avete degli elementi Per dire Io ho qualcosa Che non va O disturbi O fastidio O perdite O spotting O sanguinamento Durante il colto Bene Andate a cercare Il motivo Non lasciate Non lasciate Vi ingannare È una cosa Che possiamo Bypassarla Con la PMA Non è assolutamente vero Non bypassiamo niente Il problema è Il problema è Se quella donna Ha un'infezione Quella infezione È già arrivata Nell'endometrio Non bypassiamo Assolutamente nulla Quindi è importante Studiare attentamente Quella coppia Uomo E donna E continuo a ribadirlo Questo concetto Ok Allora C'è Lisa Che scrive Buongiorno Sono medico E sono un po' Titubante Su questa cura Perché spesso Leggendo storie Di altre coppie Noto che la cura Che è molto pesante Viene data Anche senza Significative alterazioni Su cosa basa I risultati Significative alterazioni Dipende Cioè Se Il problema è Se io Noto Che questa è una coppia Che cerca Da 3-4 anni Un figlio E il quadro seminale Di quell'uomo E tendi a cambiare Oppure Sono coppie Che gli hanno detto Lea Non ha nessun problema Cara coppia Cara donna Quindi lei può fare Tranquillamente Un'applicazione Medicamente assistita Beh assisto Al primo tentativo Negativo Al secondo tentativo Negativo E poi noto Che Nell'ambito Nel quadro seminale Di quell'uomo Cominciano a esserci Delle variazioni Significative Non Ci sono sempre Delle variazioni Io non do La terapia Per dire Come se fosse Acqua fresca Se c'è Anche una minima Alterazione Significativa Non La leucospermia La leucospermia Non è un'alterazione Significativa La leucospermia In associazione Ad altri elementi Seminali Che non sto qui A spiegarvi Anche se La motilità seminale Cambia Se io vedo Quell'uomo Visito quell'uomo E dico Quell'uomo ha Due testicoli Perfettamente normali Non ha Alcun problema Perché deve avere Un'astenospermia Perché deve avere Un'oligospermia Quindi ci deve essere Un motivo Che la può Aver provocata Allora È lì che Agisce La cura E in quel momento Che devo pensare A un'infezione Silente Perché Io L'altra volta Quando ci siamo Collegati Non so se ricordi Tu mi avevi presentato Con quello scritto Sulla rivista Della società italiana D'androdusia Riguardo È riguardo Le infezioni Che rappresentano Oggi La prima causa L'infertilità Di coppia Nel mondo La prima causa E Queste infezioni In maniera In maniera Molto suddola Modificano Lentamente Ma Inesorabilmente Il quadro Assimilare Dell'uomo Anche perché Io non vedo Uomini Dopo Un anno Che cercano Un bimbo O coppie Dopo un anno Che cercano Un bimbo Io vedo Coppie Ormai Quelle coppie Che si rivolgono a me Sono quelli Che non hanno Più una strada Non hanno Più una speranza Gli è stato detto Signora Non sappiamo Cosa fare E' questo Che gli è stato detto In maniera indiretta Hanno provato Di tutto Hanno provato La prima PMA La seconda PMA La terza PMA Gli è stata suggerita Anche di fare L'ovodonazione A 36 anni A 32 anni A 28 anni L'ovodonazione Perché ha Un AMH Basso E quindi Cosa hanno risolto Non hanno risolto Lo stesso nulla Allora a questo punto Interviene La mia cura Solo in quel momento Non è come Come molti vogliono Far credere Che la cura Va data Va data Quando ci sono Dei parametri E quei parametri Sono abbastanza Conosciuti Cioè Non sono Non è soltanto L'ecospermia Un parametro Di infezione Ve li posso dire I parametri Di infezione Sono tantissimi Ma Devono essere Sempre quelli E devono Soprattutto Essere presenti Nell'arco Di un periodo E soprattutto Ci deve essere In quel In quell'uomo Una modificazione Costante Di quel parametro Se la motilità Passa Dal 45 50% Al 5% Io devo capire Perché è successo Non può essere Che a quel giorno Ovvio Se ha una forma Influenzale Allora può capitare Ma se L'influenza È andata via Dopo tre mesi E ancora lì Quel 5% Io devo capire Quel 5% Mi vuol dire Qualcosa Mi vuol dire Che probabilmente Io sono affetto Da un'infezione silente Perché quel 5% Una delle problematiche Principali Di queste infezioni È proprio lì Non è tanto il numero È proprio la qualità Che cambia Del seme È la qualità Quanto dura La tua cura? Ma la cura dura 45 giorni 45 giorni 45 giorni Perché Io ci ho provato Come tutti Come tutti i miei Precessori Hanno provato A dare terapie Molte Short Più brevi Ma anche io ci ho provato Non è che sono Diventato A un certo punto Ho detto Ho deciso Da oggi al domani Diamo 45 giorni No Il problema è che Con una terapia breve In una infettità Che durata Che durava almeno Tre Tre mesi Tre anni Scusatemi Tre quattro anni Quella terapia Non serviva Serviva soltanto A migliorare un po' I parametri seminali Ma il risultato finale Che è il nostro È la nostra gravidanza E quindi anche il bambino Quindi una Una gravidanza a termine Non arrivava E questo è il problema grosso Allora È lì che È nata l'idea Di proseguire Questo tipo di terapia Perché Solo così L'attenuazione Della carica batterica È molto più ampia Molto più forte E queste coppie Riescono a portare avanti La propria gravidanza Senza grossi problemi Dieci anni Quattro IUI Tre PMA Dopo la sua cura Incinta naturalmente Tati Tu hai tantissime persone Adesso che mi stanno scrivendo Delle cose bellissime Che ti sono grate Grazie 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 Io ringrazio Ognuno di questa Prima dell'eventuale tese È possibile provare Con la cura Se cambia qualcosa Chiede Anna Giannuzzi Beh Il problema è Dipende Dipende Io ho avuto anche situazioni Di agiospermia Risolta sì Con la cura Quando c'era Un'evidente infezione Ma Se Il problema è Un testicolo ipotrofico Piccolino Con un FSH Alto Quindi Io non credo Che la mia cura Possa modificare Questo quadro Ormai segnato Insomma Quindi è difficile Qui L'unica È fare una tese Prelevare eventuali Semi Presenti All'interno del didimo Del testicolo E congelarli E quindi Non vedo alternativa Se invece Quella Quell'agiospermia È È la conseguenza Di una Infezione Che lentamente Ha portato Ad agiospermia Perché molte Di queste persone Che si rivolgono a me Sono arrivate A diventare Agiospermica Cioè Dieci anni fa Non lo erano Io ho visto Uomini che avevano 500 milioni di semi Che in dieci anni Sono arrivati a zero Ed è bastato Ed è bastato Far fare Un semplice tampone Alla compagna Il tampone Era positivo E la situazione È cambiata Normalmente A quel ragazzo Io non gli ho fatto fare Una biossia testicolare Gli ho fatto fare Soltanto la terapia Intanto facciamo la terapia Vediamo che cosa succede E passare Credetemi Passare da zero A 250 milioni In un mese È una cosa Che ti segna molto Ti fa capire Che forse La strada Da percorrere È proprio questa È ovvio Che va valutato Caso per caso Non tutte Le agiospermie Sono riconducibili A una Agiospermia Ostruttiva Sia chiaro Quindi Molte di queste Possono essere legate A una Agiospermia Ostruttiva A una Ostruzione Delle vie seminali Molte di queste Sono purtroppo Primitive Quindi lì Non ci si può fare Assolutamente nulla Se non fare La tese O la microtese E poi Congelare Quello che si riesce Trovare All'interno Del testicolo Allora Scusami È sempre la ragazza Che ti diceva Del Scricchiacoli Io Asintomatica A giugno TV Post Per streptococco Ma ha fatto Antibiogramma Poi TV Negativo Ma TV Si dice Ha scritto Ma lei Leggo male io Che vuol dire Scusami Tampone 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 vaginale Ora lei Asintomatica A giugno Ha scritto TV Post Non so che cosa sia Per streptococco No Dovrebbe essere Tampone Tampone vaginale Positivo Positivo Per streptococco Ah si Giusto Tampone vaginale Si Positivo Per streptococco Ma ha fatto Antibiogramma Poi tampone Vaginale Negativo Beh Nella mia esperienza Molti Molti batteri Che Per Tanti Tanti colleghi Sono Giganti Comunque No no Non è detto Molti batteri Che per Molti Mi colleghi Sono dei Normali Saprofiti O sono Dei batteri Comuni Sono in realtà Batteri Che possono Diciamo Che spesso Convivono Insieme con Questi batteri Silenti E Uno di questi È lo streptococco Più di questo Non posso dirti Perché Sono Ancora studi Che ci sto lieto Insomma A queste cose Certo Allora Ora non dico un'altra Di stupidaggine Presenza di NK Credo sia Natural killer In percentuale Del 5-10% Su biopsia Ma non Plasma cellule Endometrio Cultura Negativa Secondo lei La cura È necessaria? Beh Intanto Io farei Sicuramente Una cura Cortisonica Poi Capirei Se L'uomo Anche l'uomo Ha dei problemi Allora Se Dei problemi Non Cioè In quel momento No Con questi parametri No Ma Se effettivamente Dall'uomo Si vede Una variazione Seminale Sì Sia per l'uomo Che per la donna Allora Deel chiede Che controindicazioni Ci sono Alla sua cura? Ma Sono degli antibiotici Per cui Sono antibiotici Che agiscono A livello gastrointestinale Per cui Puoi avere Vomito Nausea Diarrea Queste sono Le controindicazioni Maggiori Ma Ovviamente In questi pazienti Faccio Ma infatti In questi pazienti Che hanno Problemi In tal senso Va dato Sia al gastroprotettore Che Tonnellate Di fermenti lattici In questo caso Non avresti Non dovresti Avere problemi Insomma Quindi Qualcuno Di Moltissime Delle mie coppie Dicono Che Prendere questa terapia È come Fare una passeggiata Insomma Però Altre Ovviamente Qualcuno Si può anche Si ferma Anche durante la terapia E mi chiede Una terapia alternativa Cerchiamo di aggiustare Un po' il tiro Insomma Quindi si cerca Sempre di trovare E ovviamente Se tu sei Ha una forma di allergia A questo tipo Di antibiotico Quelli che io Do nella mia cura Cerchiamo di modificarla Insomma Quindi si può fare Si deve fare Allora Elisa dice Che la ragazza Che Il medico Che diceva Che era perplesso Sulla sua cura Non faccio questa domanda Per polemica Ma soltanto Per capire meglio Grazie Ma lo sappiamo Perché io Tutte ragazze carine Che mi seguono Devo dire Allora Aspettando l'arcobaleno Dice che sta facendo La cura del dottore Allora Dici Come va? Come ti senti? Sei a posto Con lo stomaco? Sei riuscita a risolvere? Diciamo Manuela Che tipo di cura è? Arianna Che si vede Che si è collegata adesso Diccelo In un minuto Che tipo di cura è La tua cura? Ma è una cura Che copre Determinati batteri Che si chiamano Batteri intracellulari Che sono Che sono La prima causa In assoluto Di infertilità di coppia Nel mondo Sono Le clamidie E i micoplasmi Tra i micoplasmi Comprendo anche L'ureplasma parvum L'ureplasma Che sono affette Da un banalissimo Ureplasma Relitico Io la curo E i risultati Mi hanno dato ragione Perché se sono qui oggi A parlarvi di questa cosa Sicuramente È perché Non ho dato retta Ai libri Ai miei libri di studio Dove dicevano Che l'ureplasma Non è normale Non è neanche da prendere In considerazione No Io ho dato forza Al mio pensiero E ho trattato L'ureplasma Come se fosse Il peggior nemico Della donna E dell'uomo Quando cercano Un bambino Allora A parte che continuano A mandarti cuori A dire che è bello Rivederti Grazie Abbiamo Cristina Anche Buongiorno Dottore Buongiorno Buongiorno A te Fertility Scrive Ma il seminale Può cambiare Anche per patologie Quali varicocele O gli ormonali Perché non si richiedono Gli ormonali Per i nostri partner Beh Sì che può cambiare Però Solitamente Il varicocele È la prima È la prima patologia Che tu puoi diagnosticare Al momento della visita In studio Per cui Lì non fai Non fai molta fatica Gli ormonali Si chiedono Quando ci sono Delle problematiche Legate Diciamo A testicoli Ipotrofici Ipotrofici Se vuol dire piccoli Oppure Quando ci sono Delle caratteristiche Particolari Dell'uomo Quindi Calo del desiderio Ci sono tanti Tanti Però Solitamente Si chiedono Sempre Come primo approccio È un banalissimo Prelevo del sangue Non è che c'è da chiedere Chissà cosa Si fa un prelevo del sangue Dopo due giorni Ha la risposta E da quella risposta Riesce a capire Se Aumentando Gli ormoni Potresti aiutare Quella coppia Quell'uomo O potresti non Ma solitamente Le problematiche Ormonali Rappresentano Lo 0,5% Dell'uomo Per cui Diciamo È una fetta Molto Molto sottile Come causa Di infettità Invece Stiamo parlando Che Il varicocele Rappresenta Il 10 Dal 10 Al 14 Per cento E Le infezioni Rappresentano Oltre L'80 Per cento Quindi Capite voi bene Che Quando C'è un quadro Di questo tipo Che è ben delineato Quindi E non sono io Che l'ho delineato Ma l'ho delineato L'OMS L'Organizzazione Mondiale della Sanità Quindi Non è Difficile Basta andare E cercare Quindi E capire Quali sono Le problematiche Che questo tipo Di infezione Può provocare La cura La devono fare Entrambi i partner Chiede Arianna Penso proprio di sì Insomma Anche perché Essendo un'infezione Sessualmente trasmessa Io continuo a sorridere Quando Continuo Loredana Continuo A A A Capitarmi Tutti i giorni Donne che Dieci giorni Prima Della Diciamo Della Tecnica Di precauzione Medicalmente assistita Fa un tampone Viene fuori positivo A lei Lei la trattano E a lui no Poi la La tecnica va male E Ovviamente Lei si è scordata Di aver preso Di aver preso Una terapia antibiotica E anche lui Forse non lo sa neanche Che andava presa Una terapia Anche lui L'avrebbe dovuto prenderla E quindi C'è di nuovo Il passaggio Di questi germi Da lui A lei Da lei A lui È un continuo È un continuo Quindi La terapia Deve essere sincrona Nello stesso momento E deve essere Per entrambi i partner Assolutamente Anche se il partner È immesso Ha delle condizioni Perfette Quindi Anche se ha 100 milioni di semi 200 milioni di semi È perfetto Al 100% Anche lui Deve fare la terapia Perché altrimenti È una storia Che Si perpetua Continuamente E quella donna Sarà destinata Sempre ad avere Un'infezione Continua Molte donne Si rivolgono A me Dopo che Hanno avuto 5 tamponi 6 tamponi Positivi Ma come mai Mi succede questo Il mio amoroso L'ha fatto una volta La cura E io Sono qui Che continuo A farla Beh Quella volta È stata poca Probabilmente Molto spesso Si danno Cure differenti A lui Che a lei No La cura deve essere identica E deve essere mirata Non deve essere una cura Fatta così tanto Per fare Ora Se voi pensate Che quella infezione Può essere la causa Della vostra infertilità Dovete fare una cura Adeguata Per quella infezione Non fare finta Di fare una terapia Soltanto per nascondere Il germe Per 3-4 giorni E sviluppare Fare la tecnica E poi Che cosa risolvi Non risolvi assolutamente nulla Avrai sicuramente Il tuo negativo Olè Allora Claudia Gizzi Che è la scrittrice Dei racconti del libro Scrive Il gruppo del dottore È stato avvisato Solo poco fa Sono arrabbiatissime Perché le ha avvisati In poco tempo? Perché Ti giuro Non ci ho proprio pensato Mi sono scordato Perdonami Loredana Hai ragione Claudia ti chiedo scusa Ma non hai una ragazza Di fiducia Lo so ma Che ti cura Un attimo queste robe Tanto voglio dire Non è che tu fai Tutta sta vita sociale Loredana Loredana Io In questi tre giorni Ho staccato la spina Ne avevo proprio bisogno Per me sono stati Allora ti perdoneranno Tre giorni Il Natale Lo volevo passare Serenamente E proprio Mi è passato Poi stamattina Mi sono ricordato Che avrei dovuto Incontrarti E niente È andata così Ti chiedo scusa Se l'ho fatta Ma no Non devi chiedere scusa E alle tue ragazze E anche le mie ragazze Che sono arrabbiate La prossima volta Tanto faremo Sicuramente Ne verrà fuori un'altra Di incontro Un incontro Con dei dati Un pochino più confortanti Io spero di darvi A breve Di dati importanti Veramente Ne sono quasi certo Insomma Quindi i risultati Cominciano ad essere Veramente Accattivanti Insomma Quelli che Vengono fuori E forse tu Hai conosciuto Parte delle mie coppie Ma io Ogni giorno Apro il mio cellulare E ogni giorno Vedo O il positivo O O il bimbo che nasce Quindi questa cosa Mi rincuora moltissimo E mi dice che forse È la strada giusta Da percorre Mentre stavamo parlando È arrivato Nessimo messaggio Della ragazzina Di 43 anni Che è incinta Spontaneamente Oppure L'ennesimo messaggio Pochi giorni fa È partorita È partorita Una ragazzina Di solo di 46 anni Che Non voleva fare La cura No Lei la voleva fare E il suo moroso Non la voleva fare Invece alla fine È andata tutta bene Quindi non solo L'hanno fatta insieme Ed è partorita Tranquillamente A nove mesi E un giorno Per cui direi che Meglio non poteva andare Quindi come vedete Il problema non è l'età Il problema è Quando c'è un problema Di infezione Va risolta In ogni momento Che sia Che sia per Procazione naturale Che sia per Procazione omologa PMA omologa Opio omologa Va sempre risolta Perché i risultati Che si hanno Sono sicuramente Molto più Esaustivi Molto più Eclatanti Vede com'è Tu hai letto prima Un messaggio Di una ragazza Che ha Sono dieci anni Che ci ha provato Dopo Svereate tecniche Alla fine Ha fatto una terapia Io che cosa ho fatto Di diverso Io ho soltanto Aggiunto Ho cercato Di aggiustare Il problema Ma non dovevo farlo io Avrebbero dovuto farlo Gli altri E questo è il problema Grosso È che a tutti sfugge Perché tutti pensano No Sicuramente non avrò Io ho l'infezione Invece no È la prima cosa Da indagare Non è possibile Ribadisco Non è possibile Che donne Che vanno a fare Una tecnica Di protezione Medicalmente assistita Non facciano Un tampone Nella loro vita O almeno Ma c'è possibilità Che il tampone Esca negativo E invece che l'infezione Ci sia lo stesso Domanda Certo Certo Purtroppo sì Allora in quel momento Bisogna indagare Il pattern maschile Soprattutto se Ci sono moltissime donne Dice Dottore Come è possibile Io ho tanti sintomi Ogni volta che Sto con mio marito Sto male Eppure il mio tampone È negativo Secondo te Il dottor Scherano Come potrebbe Come analizza Questo dato Come un dato positivo O un dato negativo Io sicuramente È un dato positivo È un dato positivo Vuol dire che Sotto sotto c'è qualcosa Non è possibile Che una coppia Stia male O perlomeno In quel momento Ho cominciato a star male Perché se tu vai A indagare Su quella coppia lì Ma cara signora Lei Dieci anni fa Quando ho conosciuto Suo marito Stava male No Io non ho sempre È sempre stato bello Da un anno Da due anni A questa parte Da quando abbiamo cominciato A cercare un bimbo Io sto male Allora ci deve essere Una ragione E quella ragione Non va cercata Solo nella donna Se il tuo tampone È negativo Va cercata Anche nell'uomo E allora In quel momento Tu capisci Esattamente Che cosa sta succedendo Invece Che cosa succede Che succede Che l'uomo Si fa Fa un esame seminale L'esame seminale Viene fuori Alterato E la prima cosa Che gli si viene detta Cara signora Caro signore L'unica alternativa Che avete È fare la protezione Medicamente assistita No Non va bene Non va bene Non va bene Con questo non dico Che non credo alla PMA Io credo Enormemente alla PMA Però non va bene Affrontare la PMA In queste condizioni Affrontare la PMA In queste condizioni Vuol dire Molto Con molta probabilità Avere il classico negativo Ascolta E io di coppie Che hanno avuto il negativo Ne ho veramente Una montagna Una montagna Veramente Un'altra domanda Se i tamponi La spermiocultura Endometriocultura Sono negative Analisi su sangue Negativi per clamidia Dove si trovano Le infezioni? È l'andamento seminale Quello È l'andamento seminale Dell'uomo I sintomi Cioè se tu hai Un tampone negativo Ma hai una sintomatologia Positiva per clamidia I sintomi della clamidia Sono sempre gli stessi Non è che cambiano Quindi bisogna Analizzare Questi dati Cioè Se quella donna Ti dice Dottore Io ho cistiti ricorrenti E Quando vai a fare Un esame delle urine È completamente negativo Cioè La cistita È batterica Nel momento in cui Tu fai un esame Delle urine Ed è negativo Per un esame Per un'urinicoltura Negativa Per un batterio Che cosa pensi che sia? È sicuramente Un dato importante Quello lì È da analizzare È probabilmente Un'auretrite Così come succede Nell'uomo Molti uomini Che vengono da me E si lamentano Del fatto che hanno Bruciore lungo l'uretra Hanno dolore testicolare Hanno dolore Dopo l'eiaculazione Quindi sono tutti sintomi Che sono legati All'infezione Non dobbiamo Sottovalutare questi E non dobbiamo dare Degli antibiotici Così per tanto Per dargli Diamo una settimana Di Ciproxin Che risolve ogni cosa No È in quel momento Che io devo analizzare Bene quella coppia La coppia Se io ho davanti a me Un uomo Con questi sintomi La prima cosa che faccio Sapete cos'è? Io prendo il telefono Se non ho la donna con me Prendo il telefono E chiamo la donna E le dico Signora Lei ha dei disturbi Lei ha questi problemi Bene È in quel momento Che io analizzo Insieme alla coppia Perché il problema Ce l'hanno tutti e due È solo così Che si possono aggiungere Gli obiettivi finali Che gli obiettivi finali Che può essere un figlio Può essere Stare bene In compagnia Avere una relazione È bello Quando ti dici Molte coppie Mi dicono Dottore Coppie che non cercano un figlio Che ne hanno già avute Tre, quattro Dei figli Ma in quel momento Cercano di avere Di rivivere una relazione Insieme Ecco Queste coppie Che ti chiamano Dottore Finalmente Oggi posso rivivere Diciamo Una bellissima sessualità Con mio marito Qualcuno dice Mi sembra di volare Adesso Ma vabbè Io non voglio Far volare nessuno Però sicuramente Questo è una cosa importante Perché non è Il nostro compito Di andrologi Non è soltanto Quello di aiutare La coppia Ad avere un figlio Ma anche aiutare La coppia A vivere Una sessualità serena Allora Martina Dopo tre spermiogrammi Scoperta la prostatite silente Curata con Zitromax E Topster Io Enterococco E Klebsiella Curati con due cicli Di Tajanic Tajanic Ed un altro che non ricordo Ennesimo tentativo fallito Martina non è nemmeno grande Cioè nel senso È abbastanza giovane Forse 35 33 Allora La prima domanda Che mi faccio È perché Il mio collega Ha dato Dello Zitromax All'uomo Con la prostatite Lo Zitromax È un antibiotico Che si dà È una Macrologia Che si dà Proprio per I germi intracellulare Clamidia e micoplasmi Quindi Cosa ha avuto Ha avuto un'intuizione In questo senso Perché A lei Sono venute fuori Dei comuni batteri La crebsiella Che si possono Affrontare Trammariamente Con dell'Augmentin Con del Con del Ciproxin Ma perché A lui È stato dato Dello Zitromax Quindi Presumibilmente Il mio collega Ha pensato Che lì dentro Ci fosse Un'infezione Da germi intracellulare Allora Perché non Ha pensato La stessa cosa Anche per la donna Ecco Il negativo Probabilmente È legato a quello Probabilmente Entrambi Hanno tutte e due Lui sotto forma Di prostatite E sotto forma Di vulvovaginite Hanno un'infezione Da germi intracellulare E questa situazione Sicuramente non evolve Non potrà evolvere Perché se Nonostante sia Molto giovane Ha avuto Ha avuto un negativo Con una tecnica Vuol dire che C'è qualcosa Che non è E allora È una certezza Quella che sto dicendo Scusatemi Non voglio essere Però L'esperienza che ti dico C'è questa cosa qui Ti porta a questa Perché molto spesso Gli uomini che vengono a te Hanno la famosa Prostatite Ma la prostatite Ha dei segnali Ha dei segnali sia Clinici Ma anche dei segnali Numerici Nel seme Se tu fai Analizzi I numeri di quel seme Tu capisci Esattamente Che cosa sta succedendo A quell'uomo E se quell'uomo Ha All'interno Della sua prostata Un'infezione Importante E allora È in quel momento Che l'andrologo Il ginecologo Il medico Della PMA Deve agire Solo in quel momento Ok Qui abbiamo Valanghe di messaggi D'amore Per te Fidatevi del dottore Finita la cura D'agosto Incinta a settembre Con FSH Maschile a 34 Manuela Dottore Mi ha dato speranza Quando nessuno me ne dava Dopo la sua cura Nel 2019 Dopo molti tentativi Di PMA Ebi un positivo Con gravidanza naturale A 42 anni Poi ho abortito A 8 settimane Manuela Ora Ultimo tentativo Scongelando Ultimi embrioni Spero di sentirlo Stamattina Per un richiamo Inizia breve Un abbraccio Dottore Sara Fattore Età Incide Nell'uomo Mio marito 56 anni Io 41 Abbiamo fatto cura E vari richiami X 3 transfer Negativi Di blastocisti Curiamo Ureoplasma A gennaio Ci risentiamo Per rifare Nuovamente cura Ma sai L'esperienza Mi porta Mi porta a dire Che L'uoplasma Non è pericolosa Per In sé Come Come infezione Perché se tu la contrai Oggi Questa infezione Tu hai Un tempo X Dove tu puoi avere Una gravidanza E puoi portarla a termine Tranquillamente Diciamo Tra i due I tre anni Non di più Se passa questo tempo X Allora Questo tipo di infezione Diventa Prende Il sopravvento E Può dare problemi Come per esempio L'abortività Parliamo anche di abortività L'abortività è Forse La prima Il primo risultato Di questa infezione L'abortività ricorrente Io ho donne che hanno avuto 5 6 7 8 Addirittura Una Una mia paziente Che si chiama Maria Ne ha avute 11 di aborti Grazie a questo fottuto Ureoplasma Curato l'uroplasma Ha risolto il suo problema Si è rifatta Perché ha avuto Due gemelli Però Capite che Se non Se non Facciamo una terapia adeguata Anche perché Ormai questa infezione Era lì Da molto tempo Cioè Non è che La gente si mette Cioè Come ho detto prima La gente che si rivolge Allo Toscarano E gente che I ragazzi E le ragazze Che si rivolgono a me Sono persone che hanno E cercano un bimbo Ormai da 3 4 5 6 10 12 anni Il mio primo caso È stato il caso Più emblematico Di questa mia esperienza È quello che Ha dato un po' Vita Alla mia Alla mia rivoluzione Se vogliamo chiamarla così È una coppia Una coppia che cercava Un figlio Da 20 anni Una coppia di amici Qui di Remini Che grazie A questa mia intuizione Hanno deciso di farla Deciso di farla Le 41 anni e mezzo Ha deciso di fare Questa terapia E dopo Dopo 3 mesi Finita la terapia Dopo 7 giorni Dalla fine della terapia Lei è rimasta incinta Ecco Per la prima volta Nella sua vita Dopo 20 anni Che cercavano un bimbo Quindi questo vuol dire Che l'infezione È sempre lì Non ti lascia mai E però Puoi A un certo punto Con una Con la forza Con la forza Che tu devi avere Non devi fatti Diciamo Compiattire Dalla Compiattire Dalla Dalla infezione Diciamo Gli do una terapia Solo con 3 giorni Sicuramente risolve Il problema No Perché se quella infezione Gli da Da diversi anni Tu con 3 giorni Di zitto Non risolvi assolutamente Nulla Così come Io vado Scusa Ti interrompo Vado un po' Perché manca un quarto d'ora Instagram ci chiude Tra un quarto d'ora E hai tante domande Allora Mi sono pensato Che una parte della diretta Viene salvata Sì La trovi Se vai sul profilo Di One of Many La tv di Instagram E GTV E lì ci sono tutte le dirette salvate E aspettando l'arcobaleno Dice che con fermenti E gastro produttore Non sta avendo alcun problema Bene Durante la tua cura Elisa Io e il mio compagno Abbiamo di continuo Problemi di candida Io è più vaginale L'intestinale A marzo abbiamo il primo incontro PMA Ma sinceramente Questa situazione Non va bene Direi che Va studiata Cioè Qualcosa c'è sotto Che non va bene Non puoi Approcciarti alla PMA In queste condizioni Questo è l'unico Suggerimento Che posso darti Elisa Ok Allora Claudia Gizzi Dice che le avvisate lei Le sue ragazze Ah Sarò sul mio Instagram Grazie Ti ringrazio Facciamo così Loredana me lo metti te Perché io non so come si faccia Però Quindi E non è che ho le tue password Le tue cose Ti posso spiegare Allora Va bene Allora Anche se il nostro miracolo Non è ancora arrivato Io le sarò sempre Debitrice Lei è un angelo Non un dottore Ecco Grazie Ma 46 anni Naturalmente Chiede Si vede Sono rimaste Dal suo racconto Sì Naturalmente Allora Ha impressionato anche me Perché Perché Non ci credevo Invece È stata una bellissima realtà Una bellissima realtà È una cosa che Che non si può dire Ma è così Naturalmente Dopo aver fatto Finito la cura Bello Mio marito Dopo svariate cure antibiotiche Non riesce a eliminare Micoplasma E ureoplasma Come possiamo fare Ora sta facendo Bassato Sta prendendo Bassato Già questa domanda È abbastanza Cioè Ha già la risposta Lui sta prendendo Bassato Cosa vuol dire Lui sta prendendo Perché tu non lo stai prendendo Perché se tu Continui a far fare Le terapie a tuo marito E tu non le fai Equivale A non risolvere il problema Come vi ho detto prima Quindi La terapia va sempre fatta di coppia Perché Il micoplasma E l'uroplasma Sono infezioni Sessualmente trasmissibili Quindi non è possibile Che lui ce l'abbia E tu non ce l'abbia Il fatto che tu abbia Un tampone cervicale Negativo Non vuol dire assolutamente nulla Non vuol dire assolutamente nulla Ok Anche brusori vari Nell'urinario Post rapporto Assolutamente Sono legati a questo tipo Di infezioni No aspetta Scusami Sempre la stessa donna Signora No No Quella è un'altra cosa Possono essere anche Infezioni banali Insomma Adesso Questo Diciamo che tutto Tutto è legato A questo tipo Di infezioni Cioè Se questa infezione Questa infezione È solitamente legata A un quadro Di infertilità Se poi Il Diciamo Il problema Nasce Dopo I rapporti Allora Bisogna analizzare bene Che cosa Che cosa sta venendo fuori Quindi Potrebbe anche Darsi che ci sia Insomma Però Faccio fatica Adesso dirlo Però sicuramente Se c'è un problema Di infertilità Bisogna indagare Molto Ma molto A fondo Questo tipo Di problematica Ok Dottore Tu sei la strada giusta Saluti Francesca Rinaldo Alessia Grazie Che complimenti Allora Buongiorno Mi sono collegata Da poco Non so se la domanda È pertinente Vediamo un po' Un risultato positivo Alla candida Glabrata Può essere Da impedimento Per il concepimento Nella mia esperienza Sì Ok Endometrite cronica Origine batterica Patrizia Un'altra domanda Penso proprio di sì Martina È la ragazza Che Che ci diceva Che ha fatto Due cure Antibiotiche Diverse Con lo Zovirax Al marito E lei Un'altra cosa Non ricordava E chiede Quindi che devo fare Dopo questi tre Tentativi Non so Non ho capito Sono stati Mi pazienti Era una ragazza Che hanno dato Due cure diverse Antibiotiche A lei E al marito E ti chiedevi perché Perché lui Gli hanno dato Lo Zovirax Giusto? No Lo Zitromax Lo Zitromax Niente Ma secondo me C'è un errore Di fondo Insomma Qui bisogna Analizzare bene Questa cosa Bisogna capire Se quella prostatite È una prostatite Legata a un'infezione Da germi intracellulari Allora in quel caso La terapia va Tutta rivista Sia per lui Che per lei E infatti Ci sono delle ragazze Che rispondono A Martina Chiamalo Che ti aiuterà Chiamalo Marti Ok Ho sconfitto Escherichia coli Enterococco Fecalis Con azonoterapia Oddio Ota enterococco Cloacae Cloache Cloache Sì E mi è stato dato Levolo Levoflu Levoxacina Per tre giorni Posso poi provare Per una gravidanza Beh Se l'infezione È un'infezione Da germi Da germi banali Non è un problema Levoxacina Ma benissimo Per questo tipo Di infezioni Il problema è Da quanto tempo Da quanti anni Cercano il bimbo Da quanti anni Cercano questa gravidanza Allora se Effettivamente La gravidanza La cercano da molti anni È venuta fuori questa cosa Io indagherei molto meglio Non mi fiderei Di fare soltanto Tre giorni Di Levoflu Ok Perfetto Allora Mena Frascati Sono incinta Grazie al dottore Buongiorno dottore Allora Dottore Lo spermiogramma È il tampone Buongiorno a te Ciao Mena Lo spermiogramma È il tampone Danno negativo Dopo la sua cura Ma la motilità Al 10% Vuol dire Che c'è ancora infezione Dopo i due mesi di cura Sona Beh Se Se l'esame È stato fatto Nell'immediato Può essere anche legato Ancora Agli effetti Non proprio Dell'antibioticoterapia Quindi non è detto Quindi se invece È una cosa fatta Dopo a distanza Di 3-6 mesi Dalla fine Della terapia È probabile Aba Adab Muitz Grazie dottore Sei qui a fianco Alla mia piccola È solo grazie a lei Dopo 10 anni di ricerche A 4 fivet fallite Solo il dottore Ha visto quale fosse il problema Affidatevi solo di lui No No Nel loro proprio Riconoscenza Allo stato puro Dottore Dopo due gravidanze naturali Terminate in aborto Ho fatto la sua cura E ora Da due anni Cerco Ma non ho mai più visto Un positivo Secondo lei Cosa può essermi successo? Avevo ureoplasma Carotina È molto probabile che ci sia ancora. Dobbiamo cambiare strada o percorso, probabilmente lì è da più tempo, come vi ho detto prima. L'abortività è già la prima causa in assoluto. Se poi al problema ureoplasma si sono associati altri fattori, bisogna indagarli. Io in questo caso non mi fermerei soltanto a valutare l'ureoplasma, ma mi fermerei a fare un endometriocoltura, una biossia endometriale, uno studio delle tube. Lei dice che ha fatto anche due richiami. Lo so, ma a volte è importante andare a fondo a questo momento. Se ha fatto i richiami, ha fatto la terapia giusta, io la vedo così. Bisogna cominciare a studiare bene l'endometrio. Ok, va bene. Allora vi sentirete. Lei è il dottore migliore che abbia mai avuto modo di conoscere. Maria Assunta. Grazie. Saluti al nostro dottore. Si può anche su Facebook, Lori, il link. Ecco, vedi, mi dicono che si può mettere il link della... diretta su Facebook. Grazie infinito, che tanto alla fine tutto quello che abbiamo scoperto è per la mia testardaggine. Quindi ben felice di andare a fondo nel mentre, Elisa. Ma noi donne siamo, notoriamente, testate. Io ho avuto tamponi negativi, per questo non sto facendo la cura. Già fatta la cura e stiamo avendo rapporti protetti. Non ho capito. Neanche io. No, va bene. Siamo in due, grazie. Allora, ma la candida glabrata si può sconfiggere, se sì, come sempre con i richiami? Ah, cioè, se sì, sempre con i richiami? Beh, sì, si può sconfiggere. Bisogna capire perché è venuta e bisogna capire cosa fare, insomma, in questa opportunità. Se ci sono altre cose da fare, insomma. Anche nel caso di candida, la terapia deve essere la medicina e contemporanea per entrambi i partner? Beh, la candida, se è occasionale, se è venuta una volta nella vita, non ci sono problemi. In quel caso basta qualcosa di naturale, insomma, quindi per lei è qualcosa di naturale per lui. Però se la candida comincia ad essere ricorrente, frequente, ogni volta che si fa sesso e quant'altro, allora io andrei a capire bene perché sta succedendo. Vuol dire, la candida molto spesso rappresenta la cosiddetta punta di un iceberg, quindi qualcosa di, cioè, banale, ma ti vuol dire qualcosa di più, ti vuol dire qualcosa di più. Quindi indagare quando, se capita una volta nella vita, non succede nulla, ma se capita due, tre volte, quattro volte nell'arco di un anno, io indagherei molto. Certo. Allora, stai sano, cerchiamo gravidanza da cinque anni, siamo giovani. Tre transfer falliti, fatto endometriocultura, negativo marito, negativo, penso negativo dei transfer falliti. Ha senso fare una cura prevenzionale? No, non ha senso, cioè, no, non è una cura che si fa in prevenzione. È una cura che va data se c'è il problema. Quindi se il suo marito ha un oligoasteno teratogiospermia di NDD, senza una causa apparente e con dei sintomi, con dei particolari elementi che mi riconducono a quell'esame, ha un'infezione, io, da sé, ha molto senso. Vuol dire che probabilmente i tuoi tre negativi, nonostante tu sia molto giovane, siano legati a questo tipo di problema. Allora, siccome mancano tre minuti, io mi devo sbrigare, devo iniziare a selezionare le domande. Se non me ne volete, vi prego, la valetata, otto tentativi di cui l'ultimo ci ha portato un positivo, tampone sempre stati negativi, tutto a posto, vorremmo tentare per il nonno tentativo, dovremmo fare una visita con lei? Sì, io penso proprio di sì. Dai, Valentina. Allora, il nonno tentativo per embryo donazione, tra l'altro. Beh, io adesso vi finisco chiudendo questa cosa molto carina. Allora, passiamo così. Valentina io la conosco, perché è una ragazza che ha partecipato al libro, quindi deve contattarti in qualche modo, perché abbiamo troppo poco tempo e magari ti fa il tuo altro. Valentina, io ho una carissima ragazza che ha 49 anni. Non si è ricordata a 49 anni di avere un figlio, si è ricordata all'età di 29 anni a cominciare a cercare un bimbo con suo marito. Su marito aveva, due anni dopo che hanno cominciato a cercare un bimbo, aveva un tampone positivo per l'uroplasma. Gli hanno detto, gli hanno sempre detto, signora non è un problema, noi bypassiamo l'ostacolo. Quindi non è un problema, bypassiamo l'ostacolo. Lei è arrivata a 49 anni dopo ben 11 transfer, di cui tre eterologhe. E alla fine ha conosciuto me, gli erano rimasti due blastocisti pronte, e le ultime due sono state positive a 49 anni. Quindi ha avuto due gemelline carinissime. Però per farvi capire quanto è difficile questo percorso, ma soprattutto quanto si fa poca attenzione all'esame seminale. L'unico tampone positivo era quello di suo marito, nel lontano di 20 anni fa. Quindi cercate di capire quanto questo tipo di infezione è sempre lì, non demorde, non si stacca mai dal vostro corpo. Si è staccato nel momento in cui, si è staccato, vi ha lasciato uno spazio temporale, nel momento in cui avete fatto una terapia adeguata. E allora in quel momento i due embrioni si sono attaccati, ha avuto la prima gravidanza in assoluto, dopo 11 transfer, la prima gravidanza, e soprattutto la situazione è andata bene, come è andata? Quindi ha avuto due gemelli, quindi l'ha ripagato. Allora, ragazzi, per chi non ha ricevuto la risposta, può scrivere tranquillamente, io vi faccio rispondere dal dottore. A forza, va bene? Benissimo. Allora, Pasquale, grazie e buon anno. Ma grazie a te, come sempre. Ti ringrazio. Complimenti per il tuo libro, che sicuramente è un bellissimo libro. È un libro che parla di sofferenza, e io di sofferenza ne vedo tanta. E soprattutto, ma anche di rinascita, insomma. Quindi che quel libro sia veramente un momento perché tutte le coppie possono rivedersi e possono avere sempre la speranza che è sempre l'ultimo a morire. Quindi bisogna dare coraggio a queste cose. Quindi fare tutto prima di prendere una strada. Quindi non vi affidate ai centri come se fossero, come se potessero risolvere ogni vostro problema. Siete voi che dovete risolvere i vostri problemi. Poi vi affidate tranquillamente ai centri. Ma prima dovete fare percorrere tutte le vostre stade. Quindi uomo e donna. Dovete entrambi, quindi l'uomo l'andrologo, la donna il ginecologo, ma poi ci sarà sempre colui che sia andrologo che sia ginecologo che deve tirare le file del discorso. Sennò altrimenti i figli fanno fatica ad arrivare. Questa è la mia esperienza e ve la riporto così come l'ho vissuta in questi ultimi 12 anni. Grazie ancora e buon anno a tutti. Buon 2021. Grazie ancora. Ciao ragazzi, ci vediamo. Ciao Loredana. Noi ci vediamo il 30 con Giorgio Ghezzi alle due e mezza, solita ora.